E' ritornato l'attaccante di Belgrado, è ritornato Dusan Vlaovic che ritrova gol, condizione, quella cattiveria agonistica che in passato gli aveva anche un po' tagliato le gambe, invece stasera no, stasera ha inciso, stasera ci ha fatto vedere che quelle cose che gli riuscivano molto bene in passato può riproporle, ha fatto quello che sa fare, ha fatto gol. Poi bisogna dire che giocare di fianco ad Angel Di Maria diventa tutto più facile e lo ribadiamo per l'ennesima volta, è un privilegio vederlo giocare a calcio, la palla assume una grazia diversa quando viene appunto toccata, indirizzata dal fenomeno argentino. Juventus 3, Salernitana 0 o meglio a Salerno i bianconeri vincono per tre distanze, non c'è stata discussione, è stata una grande prestazione della Juventus, una grande prestazione senza ombra di dubbio. Adesso entriamo nell'analisi, nel profondo, nelle pieghe come si suol dire, prima però se volete vi invito sempre a lasciare un like per supportare il contenuto, vi invito ad iscrivervi se volete seguire i prossimi contenuti del canale, vi ringrazio perché comunque in tanti continuate a supportarmi, ripeto siamo vicinissimi anche all'obiettivo del 200.000 ancora, ma qualche milioncino quella, ma grazie di cuore, grazie veramente anche agli amici di Facebook, sempre tanti, sempre valorosi. Vi ricordo e ringrazio anche Hipermatch perché è un fantacalcio ragazzi miei che veramente fa divertire, provatelo, testatelo, un nuovo modo, rivoluzione un po' il gioco del fantacalcio perché si affida anche alla tecnologia blockchain, ma vi permette di seguire comunque le regole classiche di scambiare giocatori, di fare voletto plus valenze, e come ci ricordava anche il banner è attiva la preventiva dei giocatori della Premier League che invece sarà limitata, quindi approfittatene subito, ora, adesso, più che mai, link in descrizione, veramente, ve lo consiglio. Hipermatch, bello, Hipermatch, via, mi piace, mi guarda, mi gusta, mi gusta. Salernità di Uber, come dicevo, 0-3, parto dalla fine, come al solito mi piace partire dalla fine, c'è una cosa che ho apprezzato particolarmente nella Juventus, che spesso invece ho avuto da ridere, ho sindacato sul fatto del continuare a proporre, continuare a giocare, nonostante il vantaggio, e soprattutto cercare di speculare il meno possibile. La Juventus al novantunesimo, si procura l'ennesima occasione da gol, Quadrado fa tutta la fascia e va a concludere dopo un bel e importante dialogo. Una Juventus che oggi ha giocato veramente bene, è finita 3-0, un risultato che paradossalmente sta stretto alla squadra dei bianconeri, che oltre ai tre gol mette a segno altre occasioni, tra l'altro due legni, e c'è stata veramente supremazia della Salernitana, ricordo una vera e soltanto unica occasione da gol, a quel tiro cross buttato nel mezzo e poi non c'è stato il tap-in vincente, si era già sul 3-0, gli si è arrabbiato Allegri perché la squadra ha avuto una piccola flessione, il risultato così largo diciamo, li avevo fatti un po' perdere lucidità, concentrazione, e ovviamente poi l'allenatore invece li ha rimessi in carreggiata. Ma come si è arrivato a quel 3-0? Si è arrivato al 3-0, ripeto, ritorno, con questo assetto tattico che inizia a dare dei suoi frutti, questo 3-5-2 che poi viene riproposto anche con altri interpreti, ma l'accoppiata di Maria Vlaucci stasera ha regalato divertimento, ha regalato occasione, seppur all'inizio non si era poi così stappata la gara, ma da un momento all'altro, di Maria, l'ho detto prima, è un privilegio perché nel primo tempo anche da fermo si vede, anche se va rispetto agli altri ad una velocità che sembrerebbe sulla carta ridotta, riesce a fare delle cose che gli altri si sognano di fare, se le sognano, no? Ribadisco se penso, anche al rigore procurato, a proposito speriamo nulla di poi così grave per un giovane come Miretti, ma come la prende quell'esterno, come va a dribblare sulla destra per metterla poi in mezzo, quindi salta l'uomo, se penso al dialogo con, non ricordo adesso il giocatore, forse Rabiot, non ricordo, comunque proprio allo scadere del primo tempo, subito lui di prima in verticale, Lobb, tocco sotto per Locatelli, un'altra chiara occasione, ha servito tutti, anche sul 2, sul secondo gol, nasce sempre da un suo dribbling, è lui che procura, si guadagna la superiorità numerica, un giocatore ragazzi, nel secondo tempo va a concludere, boom, tiro da fuori, traversa, giocate, giocate di un giocatore che appartiene, appartiene, no? A un'altra cerchia, molto ristretta, che è quella dei fuori class, c'è poco da, c'è poco da discutere, grande, 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 grande giocatore. Chi invece si era un po', no? Perso, vuoi, per la condizione, vuoi, c'è stato il mondiale, ci sono state tante situazioni, infortuni e quant'altro, era appunto via Vlaovic, Vlaovic, giocatore che poi è stato messo anche, no? Con una sorta di punto interrogativo sulle spalle, no? Sempre più grande. Io lo ribadirò alle fine, se Vlaovic non riesce a emergere, se non riuscirà ad emergere con costanza, significa che qualcuno non ha fatto bene il suo dovere, quel qualcuno non è di certo il giocatore, perché il giocatore ogni volta si mette a disposizione della squadra, lotta, combatte, è un giocatore che vuole allenare, anche perché quello che si sacrifica, che fa tutto il lavoro, e non solo il lavoro da attaccante, cerca di lavorare le palle, cerca di combattere, come ha fatto nel secondo tempo, e poi ha appoggiato, se non sbaglio, a chiesa, e nonostante l'avesse appoggiato, va ancora a scattare in avanti, cerca ancora, no? L'assistenza, o comunque l'assistenza finale, giocatore incredibile, oggi ritrova, ritrova il gol da calcio di rigore, battuto benissimo magistralmente, Ochoa tra l'altro si ci butta prima, Ochoa ha fatto un balzo incredibile, non ci arriva ugualmente, proprio perché il tiro di rigore è calciato benissimo, quel tunnel all'avversario, con tiro a incrociare, non preciso, come non lo è stato sul secondo gol, quando appunto poi nasce il gol di Kostic, però è lì, però è presente, e la Juventus di pro ha portato tanti uomini anche nell'area di rigore, come dicevo prima, bellissimo il terzo gol, bellissimo il suo gol, sua azione, da attaccante, grande, grande, grande giocatore, una cattiveria importante, come ho detto prima, forse una cattiveria che alcune volte, no? Quella voglia di fare, di incidere che alcune volte invece le ha fatto perdere un po', no? Di attenzione, di brillantezza, un nervosismo che l'ha portato a sbandare, però di certo non manca l'applicazione del ragazzo, e poi, come abbiamo visto in queste serate, sai, riesce ad esaltarsi, con Di Maria, come dicevo prima, è tutto più facile, ma l'avventus ha tante armi, l'abbiamo sempre detto, e appunto lo sono anche i giovani, bello come si è procurato il rigore Miretti, per esempio, è stato molto molto bravo lì, ma anche Fagioli quando è entrato, se non sbaglio è lui che dà quella verticale bellissima, quella verticale bellissima, dopo c'è l'assist per Vlaovic, se non sbaglio è lui che fa quella verticale, correggetemi se sbaglio, ma quella è una giocata importante, quindi è un'avventus che ha, come abbiamo sempre ribadito, giocatori di alto profilo, che siano i giovani, che siano i giocatori più datati, che siano sorprese, quello che vi pare, ci sono giocatori di qualità, e questa la Juventus, che possiamo dire Juventus vera, Juventus grande, queste sono le prestazioni che una squadra come la Juventus deve riproporre, più spesso e con maggiore continuità, grande partita, grande partita contro una Salernitana, per concludere che ha potuto poco, che sul 3-10 ha anche un po' provato, però rischiava ancora di scollarsi ulteriormente, quindi l'allenatore li ha fatti rientrare un po' tra i ranghi, non so, queste magari le serate dove fare punti, però magari bisognava uscirne con un passivo diverso, però stasera sembrava che ci fosse veramente troppo tanto di stacco sullo spessore tecnico e non c'è stata gara, diciamo, non c'è stata indubbiamente discussione, è andata così. Va bene, signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentatevi al canale, se volete iscrivervi al canale, un grande abbraccio, da Neschio!